Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati nella consulita rubrica 4 chiacchie all'interno del mondo pensosa edizione del riassunto della settimana. In questo mini riassunto video andremo ad analizzare tutte quante le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dei miei amici. Cominciamo con la prima notizia, cominciamo con parlare del ritorno di maglietta bianca con la terza puntata di come gli edistro gestiscono i repository. La sua mini sitcom, diciamo così, ambientata nel mondo Linux dove ci viene mostrato indietro le quinte di come i vari programmatori inseriscono i pacchetti nei propri repository. In questa nuova puntata andremo a vedere PC Linux OS, Linux Mint, POPi Linux e OpenSUSE. Andatelo a vedere, ma soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale di Maglietta Bianca che è cambiato da qualche settimana, quindi iscrivetevi al nuovo canale e iniziatelo a seguire. Anche se poi tutti quanti i vari video e le video recensioni li troverete comunque su Marcosbox, in esclusiva. L'altra notizia della settimana, il 17 di maggio 2014 si svolgerà il Dookit 2014. Che cos'è? È praticamente la Debian Ubuntu Community Conference. È una conferenza degli sviluppatori Debian e Ubuntu, sviluppatori appassionati e quant'altro, che si riuniscono ogni anno, questa qui è la terza edizione, e si riuniranno a Cisiena il 17 maggio, poi trovate maggiori informazioni nel post. Ci sarà un incontro della community, di tutti i programmatori e sviluppatori, per meglio conoscersi, socializzare, parlare e discutere dei vari temi a cui stanno a cuore tutti noi pinguini e cose del genere. Se siete di quella parte, fateci un salto. Poi trovate tutte e quante le informazioni all'interno del post. In settimana, poi, ho pubblicato una piccola guida, che non tutti hanno capito, su come trasformare KDE con un book simile al Windows 8, Windows 8 8.1, come lo volete chiamare voi. Una piccola guida, che ha un fine. Molto spesso si sente dire, KDE non è personalizzabile, oppure è troppo difficile da personalizzare. In questa semplice guida che ho realizzato, vi mostrerò passo per passo come cambiare i vari pezzi di KDE. Il tema plasma, il gestore delle finestre, il tema orrore, lo schema di colori, il tema di cutty curve, le icone. Come, appunto, in questa piccola guida vi illustrerò come fare e ho colto la parola al bazzo di utilizzare un pack K8, che è praticamente un insieme di elementi che consentono di dare a KDE il book di Windows 8. seguite questa guida se vi piace, se vi interessa, e prendetela come una guida per spronare la gente a personalizzare KDE e a vedere che non è poi così difficile come alcuni potrebbero dire. Perché molto spesso si dice, ah, è confusionario e quant'altro. Però il fatto appunto di avere tutti questi elementi sgregati, con un tema che può essere composto da varie parti, consente sia di creare dei mix, ma consente anche di creare appunto, cioè di avere, di lavorare e concentrarsi solo su determinate parti. E comunque, andatevelo a vedere, capirete tante cose di KDE che magari sfuggono in più, per quanto riguarda appunto le personalizzazioni. C'è stato poi il consueto riassunto della settimana, da parte di Stefano, dal mondo di OpenStreetMap. Settimana, 7 aprile, 21 aprile. Ehm, riassunto lungo, perché appunto è un grande lasso di tempo. Se siete appassionati nel mondo di OpenStreetMap, andatelo a leggere. In settimana è stato poi rilasciato Firefox 29. Nuova versione di Firefox, caratteristiche principali sono due. Il look, che adesso è un look, come direbbe qualcuno, ispirato al Chrome. C'è un look diverso, un tema, il tema Australis, di cui si è parlato per tantissimo tempo, che finalmente è un look unificato anche su Linux. Adesso non c'è più il tema orrendo che c'era su Linux, ma c'è appunto questo tema che è quasi universale. Quasi universale perché? Perché non è come Chrome che ha comunque il suo look che è proprio uguale, preciso, preciso anche su Linux. Qui comunque è uguale nel senso lato, va. Perché se appunto lo utilizzate su KDE per esempio, c'è comunque un problema per quanto riguarda il menu a discesa, che non è che sono tanto carini da guardare e cose del genere. Comunque, grande rilascio che è piaciuto a molti, da quel che ho letto c'è anche un incremento prestazionale, sono state integrate le web app con il sistema, è stato poi introdotto un'altra grande novità, la possibilità di creare un account Firefox Sync, che in una maniera più simile a quanto accade su, ad esempio, su Google Chrome, voi vi registrate a Firefox Sync con una mail e una password. Poi, vi collegate con i vari PC che volete sincronizzare, quindi preferiti, password, schede aperte, estensioni e quant'altro. Dovete soltanto inserire adesso la mail di registrazione e la password di registrazione, sia su desktop che su mobile. Quindi, non è più come nel passato dove c'era da inserire quel codice che molte persone dicevano, è difficile, che poi era un cacchio di codice che veniva generato, che bisognava inserire. Non è che era chissà questa grande cosa. Comunque, è appunto, è stato fatto un sistema alla Google Chrome per intenderci, quindi adesso viene sincronizzato così. E' comunque una cosa in più, una cosa carina. In settimana, poi, Enrico ha realizzato anche una nuova video recensione, piccola, perché non è che c'era molta da discutere, su GNOME 3.12. GNOME 3.12, provato su Fedora 20, con i repository Coop, come si chiamano. Andatevi a vedere la sua video recensione e magari lasciate un commento, dicendo se siete d'accordo con quello che ha detto, oppure no. Pubblicato poi la roadmap che ci porterà al rilascio di Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn. La data di rilascio finale è fissata per il 16 ottobre. Nel posto poi troverete tutte quante le varie tappe intermedie che dovrebbero essere confermate, salvo poi i cosiddetti ritardi dell'ultimo minuto, gli sgrittamenti di qualche giorno, che potrebbero insorgere. Anche se comunque Canonica ci ha abituato a fare pochi sgrittamenti, non come altro distro. Non faccio nomi. Ultimo post, ultimo post postato in ordine di tempo, è quello di Stefano, della settima puntata di Marcosbox.io. Che cos'è Marcosbox.io? Voi che seguite Marcosbox a più tempo, di sicuro lo sapete. È un contenitore di tutte quante quelle notizie che non riguardano strettamente il mondo Linux, ma riguardano il mondo della tecnologia e cose, le curiosità prese dalle rete, che vengono appunto riassunte in Marcosbox con link di approfondimento, senza che si fai il post inutile. Voi andate lì e andatevi a vedere la notizia dalla fonte originale. Due notizie interessanti, c'è una foto emblematica di come sarebbe l'umanità intera se si accumulasse sul fondo del Grand Canyon, un po' come quando accade in World War Z, nella famosa scena in Israele. E poi, che c'è più di notizia interessante? Ah, ecco, vabbè, stavano realizzando un documentario su Xbox ed è stato trovato il sito dove l'Atari aveva seppellito tutte le copie di E.T., quello che fu definito il flop più cramoroso della storia dell'Atari, il gioco più orrendo che sia stato mai fatto. Andatevi poi a leggere le altre notizie. Bene, con questo concluso, non mi sono dilungato troppo perché ho visto che sono soltanto 9 minuti, soltanto. Ci vediamo la prossima settimana, lunga vita e prosperità a tutti quanti e mi raccomando condividete i video, condividete i blog, aiutateci a crescere. Ciao ciao!